Non lo sapevo, non lo sapevo che lei vuole dare la cosa. È un revile, non la volevo fare. Che dobbiamo fare? C'è una canzone. Mal? Eh, sì. Clar mal, eh? Qual è la canzone, Simona? C'è Casetta in Canada, signor Arbere. Ah, ecco, Casetta in Canada, carina quella canzone. È molto carina. C'è Pazzaglia che si è addormentata, non lo svegliamo con la Casetta in Canada, sta sognando che i pesci, che non piglia. Ecco, Pazzaglia. Pazzaglia? Pazzaglia? Eh, no. Dove sono? E tu ti esce da? Sì, è roma, è finito, è finito il lanetto. È finito il lanetto, Pazzaglia, dimmi. Allora, spieghi a chi dorme, non piglia pesce e poi dopo facciamo... Carman ronfa, quella arma che ha Bedwina, quella arma Alice. Carman ronfa, quella arma che ha Alice. Ah, ecco, perciò, capito? Dice, quando infatti lui dorme, ci sono altri che pigliano le Alice, come le Alice. Quindi, è pagano. Carman ronfa, e quindi non bisogna dormire. Carman ronfa, che la Bedwina... Eh, va a pigliare i pesci. Carman ronfa. La piccia pigliava i pesci anche quando dormiva. Pigliava i pesci anche quando dormiva? Quali pesci pigliavamo andando per fare? Quali pesci? E non lo so, come pigliavamo? Perché quando andavamo in barca, per esempio, per farci delle effusioni, che adesso non sto a dire qua, perché... Certo, in barchetta. Eh? In barchetta andavamo. In barchetta? In barchetta. In barchetta. Io c'ho una notizia sensazionale. Scrapizzo sta per tornare. Ecco, benissimo. Ma sensazionale per te, ma non per me. Ha scritto una lettera. C'è da impazzire, vederti, bella, saperti mia, non poterti avere. Sicuro, fermate, autografate. Scrapizza. Scrapizza. Sotto qui stiamo scendendo. Sotto il tappeto. Io non posso mettere... Pazzagli, non fanno il livello, è meramente basso. Hai capito male, hai capito male. No, non è solo. Hai capito male. Non hai capito male, non stiamo pregando personalmente. E lui è in livello, ha visto il tappetino, ha visto i pazzagli che si abbassano. Gli è venuta la voglia di pregare verso la Mecca.